La telenovela Giallò, nell'ultimo giorno di mercato, si conclude con un finale a sorpresa, il giocatore tornerà alla Juventus. Niente di fatto nemmeno per Tiago Giallò. La Roma, dopo l'affare Danzo, perde anche il difensore portoghese. Ricerca complessa, quella nelle ultime ore di mercato, di un difensore per i giallorossi. Il club aveva richiesto un approfondimento di visite mediche su di lui, nel pomeriggio, come documentato da calciomercato.it, giallo non si era sbilanciato sulla firma con la Roma. Ora, però, stanco dell'attesa tornerà a Torino. Il portoghese sarà reintegrato nel gruppo della Juventus di Tiago Motta. Grazie a tutti.